Controlli più serrati contro gli assembramenti, soprattutto nel fine settimana. Lo prevede una circolare inviata dal capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, ai prefetti, dopo le immagini dell'ultimo fine settimana con centinaia di persone in strada in diverse città italiane. Possibili anche iniziative da concordare con i sindaci, come la chiusura di strade e piazze. L'invito è di convocare d'urgenza i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di programmare gli interventi. E ora torniamo a parlare di questa buona notizia.